Comune di Sant'Eramo in Colle, assessorato ai servizi sociali, alle politiche sociali, siamo con l'assessora a Ramo, ad Assolimena. So che sta lavorando, sta lavorando anche molto bene con questa amministrazione, sono i fatti a dirlo, non sono io. Ci sono stati tanti progetti avviati in questi sette mesi di mandato elettorale, per cui facciamo un po' il punto. Qualche sera fa, Consiglio Comunale, si è parlato, anche se in maniera un po' risicata, di quello che è lo schema per quanto riguarda il piano sociale di zona. Ecco, assessore, intanto buongiorno, e se ci può raccontare qual è la situazione, qual è lo stato dell'arte dei piani di zona. Allora, sì, c'è stato al Consiglio questa discussione per provare, per fare la convenzione, perché è importante per non interrompere nessuna attività, cioè per non interrompere nessun servizio, perché i servizi sono importanti per i cittadini, centro polivalente per gli anziani, il centro educativo, centro educativo per disabili, reddito di cittadinanza. Se non veniva firmata questa convenzione, ed è giusto che forse doveva essere apportata anche prima, problemi tecnici di tempo, organizzazione, potevamo rischiare di bloccare i servizi. E questi servizi, dopo chi ne avrebbe pagate le conseguenze, sarebbero stati nuovamente i cittadini. Invece non è successo, avete firmato questa convenzione, quando l'avete firmata, e che cosa sostanzialmente dice questa convenzione? La convenzione dice che ci sono delle programmazioni da stendere per, diciamo, dividere le varie risorse fra tutti i servizi che i vari comuni devono offrire. Quanti sono i comuni? I comuni siamo Altamura, Capofila, Santeramo, Polgiossini e Gravina. Che cosa le piace di più di questa convenzione? Qual è l'attenzione che è stata riservata in maniera più evidente e che lei condivide? Beh, io su questo a me piace tutto perché non posso discriminare un problema dall'altro. Ogni problema di ogni singolo cittadino e quindi di ogni categoria per me è essenziale ed è fondamentale. Non posso scendere questi settori perché ognuno ha bisogno. E noi stiamo qui per questo, proprio per non creare mai di servizi. Questa è la cosa essenziale. Anche se ci sono problemi, lottiamo. E questo io l'ho visto come primo insediamento col centro polivalente. Ci siamo trovati a lottare perché sappiamo tutti che c'è stata questa chiusura per un paio di giorni in quanto si erano finite le risorse e quindi non potevano più rinnovare la convenzione. Siamo riusciti, grazie, e questo lo posso dire al nostro dirigente, sì, all'assessore Michele Caponio e al mio a insistere con gli uffici di piano per prendere delle risorse dell'ufficio di piano del 2018 e quindi non attingere dalle riserve che ogni comune ha in caso di bisogno, creando in questi modi anche dei fuori bilancio. Quindi questa è già, secondo me, una vittoria piccola, ma è una piccola vittoria. Ci dimostra che Altamura sta collaborando in pieno. Senta, il suo è un indirizzo politico perché l'assessore deve dare il suo indirizzo politico. Ovviamente poi c'è il tecnicismo. Lei si avvale di una professionalità che ovviamente lei elogia perché è una persona molto attenta. Adesso ascolteremo il dottor Carone, ma quello che ne voglio dire è che lei proviene dal mondo dei più deboli per cui evidentemente l'assessore è giusto al posto giusto. Se lei avesse la bacchetta magica, che cosa farebbe per questa città, per chi ha più bisogno? Farei subito delle case popolari. Quella è la cosa che è più. Sì, c'è carenza. C'è carenza di strutture per persone maltrattate. Entriamo in un mondo centro alla violenza di genere? Centro alla violenza di genere, certo. Qui Sant'Eramo su questo non ha dato mai risposta. Su quello noi siamo molto vicine. Perché è una realtà che non è conosciuta. Perché non è una realtà del basso oceto questo. È una realtà che prende anche determinate persone, cioè coinvolge, che per vari motivi non vogliono denunciare e soffrono. Ecco per questo io voglio lavorare per creare un filo diretto che anche la persona che chiama neanche deve sapere chi l'ascolta. Uno sportello amico. Uno sportello amico, certo. Nel pieno anonimato. Ma ci sta lavorando su questo? Si è confrontata con il dirigente su questo tema? Allora, su questo la cosa, diciamo, come assessore dei servizi sociali e che valuto e che stimo e che forse mi dà anche la forza di proseguire è proprio per il dirigente perché lui sa cogliere ogni richiesta. Anzi, è lui stesso che già le pone sul tavolo queste richieste perché essendo un dirigente è anche molto vicino alle problematiche della gente e non ho mai visto un dirigente che in caso di bisogno si alza e dà spiegazioni agli utenti. Quindi questo è molto disponibile e non è facile trovare questo tipo di figura. Assessore, passeremo subito la parola al dottor Carone non prima di aver chiesto come sta lavorando il suo ramo se siete in affanno, se siete in sotto organico se insomma viene coadiuvata nella maniera più efficiente. Siamo sotto affanno sempre per il discorso dell'assistente sociale sperando che a presto anche questo problema sarà risolto. Necessitate di un'altra figura? Eh sì, un'altra figura, infatti lo resti anche nella relazione del Consiglio che abbiamo bisogno di un'altra assistente sociale e sarà un obiettivo da raggiungere presto. Come ruolo amministrativo, proprio nell'ufficio dei servizi sociali poi il dirigente mi può confermare penso che lì ci sia una buona risposta una buona risposta e anche come funzionari lavorano benissimo, non stiamo in affanno. Abbiamo un po' il problema giù all'anagrafe però questo già sembra che possa risolvere. Un'ultimissima domanda perché mentre le parlava pensavo ai percettori di reddito di cittadinanza. So che il suo assessorato ha dato vita a dei progetti quindi queste persone hanno riacquistato una dignità di lavoro come sta andando questo progetto e se continuerà? Progetto è ottimo, abbiamo avuto un'ottima risposta certo che continuerà perché parlando con i percettori di reddito di cittadinanza noi vediamo in loro la voglia di sentirsi utile. Forse proprio per questo ora c'è richiesta da chi percepisce il reddito di cittadinanza di mettersi a disposizione e abbiamo intenzione di continuare con questo progetto e con queste persone. Grazie. Assessore, quanti stanno dando il proprio contributo affinché il progetto può andare avanti? Quante persone stanno... Sono dieci persone che stanno lavorando. Uomini e donne. Uomini e donne, anzi no mi corrego, quindici. Passiamo la parola al dirigente. Dottor Carone, ben trovato. Intanto complimenti per la sua stanza perché è piena di colore, piena di vivacità ci fa capire che è una persona vivace intellettualmente perché per essere a capo di un settore così variegato se non c'è vivacità mentale non si va nella direzione giusta. Per cui, dottor Carone, da quanti anni? Lea Santeramo è un tessuto sociale che ormai conosce bene, immagino. Buongiorno a tutti. Come dirigente a breve compirò i primi tre anni di lavoro. è un bellissimo territorio. Il bello di lavorare nel campo dei servizi sociali e di vedere anche di differente realtà come mi è capitato già di vedere in altri comuni è che si notano le peculiarità di ogni comunità è ciò che c'è più bisogno e quindi poi si cerca, grazie ovviamente all'aiuto e al supporto della politica, di trovare le migliori soluzioni a tal proposito. Infatti mi preme dire che nell'arco dell'ultimo anno hanno lavorato benissimo sotto un profilo politico per raggiungere un'armonia con il comune capofila di Altamura che è fondamentale per poter mandare avanti i servizi. Infatti all'interno di questa convenzione, questo schema di convenzione che ha approvato l'autorizzazione del Consiglio Comunale... C'era la sua relazione sicuramente perché insomma lei come ha detto ai lavori ha relazionato su quello che sono appunto i punti cardine di questa convenzione. Mi scusi se lo interrompo. Santeramo come sappiamo ha come tutti i comuni dell'area che come ha ricordato l'assessore non è solo Santeramo sono 4 o 5 quelli che sono ha un'area di supporto e di intervento rispetto alle altre. Santeramo ha sempre l'area anziani si occupa diciamo prevalentemente di questo ha un privilegio? Allora faccio una premessa far parte di un ambito vuol dire avere dei benefici soprattutto in termini economici e poi di servizi sostanzialmente noi per ogni euro che investiamo come quota di compartecipazione ne guadagniamo in senso lato un minimo di 5 per ovviamente garantire poi tutti i servizi di tutti questi servizi che sono garantiti se si fa una valutazione in percentuale su chi più ne beneficia Santeramo si può assolutamente dire che è il comune che beneficia di più in termini assoluti rispetto anche alla popolazione per quanto riguarda tutti i servizi per gli anziani quindi parliamo di assistenza sociale domiciliare di assistenza domiciliare integrata e soprattutto che è forse la cosa più tangibile più conosciuta il centro per gli anziani che è presente in Corso Italia che viene finanziato da risorse dell'ambito territoriale quindi è corretto dire che beneficia di più dell'area anziana. Quali sono i punti importanti di questa convenzione quello che ovviamente sarà oggetto di questi anni perché credo che ogni anno o dopo quanti anni si rifà una convenzione capiamo meglio Allora sostanzialmente questa è la convenzione che anticipa il piano sociale di zona che ci accompagnerà di fatto per i prossimi 4 anni perché il piano nazionale registra per questioni burocratiche un anno di ritardo quindi c'è un'ultra attività anche della convenzione stessa e le cose più importanti a mio avviso le novità più importanti di questa convenzione che hanno, ripeto, concertato in sede politica è l'impegno da parte dell'ambito di perseguire il rapporto previsto per legge di avere un assistente sociale ogni 5.000 abitanti ed è un impegno molto forte se consideriamo che Santeramo adesso di fatto raggiunge il target di un assistente sociale ogni 10.000 abitanti ha un'importanza fondamentale l'altra cosa è che si è capito finalmente di non fare la guerra, il campanilismo per i profili professionali bensì di far girare più i progetti e le carte anziché le persone mentre le convenzioni precedenti prevedevano obbligatoriamente anche l'invio di delle professionalità per un tot di ore ad Altamura adesso invece ci si è raggiunto l'accordo che questo impegno è di fatto strutturato semplicemente laddove è necessario di inviare dei progetti, dei dati o perché no strutturare insieme in maniera concertata dei capitolati tecnici quindi questo è anche fondamentale perché dà una maggiore sinergia tra il nostro personale e il personale attualmente impiegato ad Altamura con cui posso assolutamente dire abbiamo un ottimo rapporto per quanto ci riguarda e anche loro sotto un profilo politico con quello che è l'attuale commissario prefettizio che ha sostituito Come la immagina anzi come la vede questa Santeramo per i prossimi quattro anni tenendo conto di questo schema di convenzione ovviamente sotto il profilo servizi sociali Allora noi come dato assoluto dei percettori di reddito di cittadinanza abbiamo il 5% Che sono? Si può sapere o è privacy? No, no il dato numerico si può sapere i percettori sono 842 percettori quindi ovviamente quando parliamo di percettori è importante anche parlare di nuclei familiari perché ci sono nuclei da due persone ma anche ovviamente famiglie da tre e quattro e quattro persone Considerando che sì considerando che l'importo mensile percepito medio è di circa 500 euro è un dato che ci deve far riflettere perché ovviamente dall'altra parte laddove ci fosse l'intenzione del governo e di andare a ridurre a tagliare le risorse in tal senso ovviamente ci deve essere poi una risposta in termini politici perché il Consiglio Comunale ne deve tenere il conto e aumentare l'altro aspetto fondamentale che mi sento di sottolineare per Santeramo è una percentuale importante di net ossia ragazzi che almeno sotto un profilo statistico non risulta che stiano lavorando neanche proseguendo dei percorsi di studio il numero approssimo ora non ce l'ho sottomano però ve lo posso fornire un numero lo posso dare attualmente si stima che il 10% dei ragazzi che si iscrivono a percorsi di studio superiore si ritirano nel corso è un dato allarmante o come nella norma è un dato che rispecchia il trend della Puglia però a mio avviso può essere contrastato maggiormente su Santeramo perché mancano dei servizi che intendiamo da qui ai prossimi 5 anni istituire infatti nelle linee programmatiche dell'amministrazione comunale vi è anche un'indicazione in merito al supporto alla ricerca attiva del lavoro vediamo di cercare di perseguire questo obiettivo anche con l'inaugurazione di Porta Futuro Santeramo che sono questi uffici prefabbricati che abbiamo realizzato fuori per poi riempire questi contenitori di tante altre iniziative ci siamo candidati abbiamo ottenuto un altro finanziamento che si chiama Generazione Z riguardo proprio i ragazzi di una determinata fascia d'età stiamo candidando altri progetti in tal senso questo sicuramente è un qualcosa diciamo di sottovalutato senza dimenticare che è un altro aspetto fondamentale della Convenzione appena approvata come schema che c'è l'impegno formale a dare continuità a tutti i servizi già attivi se consideriamo che un altro dato importante il pronto intervento sociale è stato istituito da appena sei mesi e già si sono contati ben 13 iniziative di inserimento temporaneo in tal senso è un dato da tenere considerazione altro aspetto a breve abbiamo aperto in via d'urgenza il centro di accoglienza per adulti in difficoltà dopo che ci sarà l'approvazione del bilancio in Consiglio Comunale anche lì possiamo andare in gara in maniera più strutturata e quindi garantire poi un aumento degli inserimenti presso questo centro che è situato in via Pietro 7 per quanto riguarda ripeto sempre la convenzione secondo me l'aspetto più importante che emerge fino a un certo punto perché poi è stata seguita tutta un'altra serie di azioni che c'è l'impegno a collaborare nella progettazione di tutti quanti i bandi su cui si può candidare il comune capofila quale è Altamura quindi è fondamentale che sia stata diciamo fatto questo primo passaggio e soprattutto bisogna proseguire in tal senso un'altra buona soluzione che è stata già avviata da parte del collega dirigente di Altamura e di passare come procedura di gara di evidenza pubblica non più come affidamento di servizi classico bensì come accordo quadro che tecnicamente è un passaggio che permetterà anche di evitare cosa che è avvenuto in passato la ciclica interruzione dei servizi o riduzione laddove bisognava procedere con fasi di proroga tecnica e quindi questo è un altro bel traguardo con queste procedure che prevede il codice dei contratti si seguiranno più che più snelle più lungimiranti ecco come affidamenti sicuramente ne gioveranno tutti i nostri cittadini i servizi erogati dall'ambito lo dico sempre sono un po' poco considerati ma semplicemente perché siccome la gran parte sono servizi attivati su discrezione tecnica degli attori sociali quindi non solo delle nostre assistenti sociali ma anche della neuropsichiatria infantile del consultorio o anche del tribunale quando ci sono alcuni casi sono poco conosciuti però vi garantisco per quello che posso dirvi che semplicemente come dico bene a noi il campo del sociale non va diciamo di pari passi col marketing nel senso che non non riusciamo a far percepire quelli che sono gli sforzi che vengono erogati però mi permetto di dire che il passaggio che ha fatto il Consiglio Comunale al di là ripeto della logica dialettica che ci sta anche e di fondamentale importanza proprio perché come ambito territoriale di fatto dopo quello di Bari è il secondo in termini di grandezza e quindi anche di gestione di possibilità di gestione di risorse a maggior ragione che ci sono tutta un'altra serie di azioni poco conosciute come i buoni di conciliazione o ancora il supporto tramite economico per il centro di ascolto per le famiglie che sono servizi sempre in divenire e quindi anche in termini di risorse perché c'è una maggiore attenzione per investire a favore della conciliazione vita lavoro vedo che insomma l'amore di lavoro è tanta è un settore che ha bisogno di attenzione continua noi le auguriamo un buon lavoro ovviamente ci sentiremo magari in altre occasioni per fare il punto perché questo è un ambito veramente variegato e tiene conto di chi è diciamo l'ultimo anello di quella che è la società per cui persone fragili che hanno bisogno di aiuto un'ultimissima domanda richieste di interventi domiciliari ci sono ci si può rivolgere questo le faccio una domanda sono collante con i cittadini mi è stato chiesto quindi per chi volesse avere volesse essere attenzionato che cosa potrà fare parlo di persone anziane che sono sole a casa che hanno bisogno della pulizia che hanno bisogno di piccola assistenza quindi assistenza domiciliare possono rivolgersi qui ai servizi sociali a Santeramo sì allora possono rivolgersi ovviamente noi teniamo sempre conto in via prioritaria sulla base delle risorse disponibili dei casi già seguiti però ciò non toglie e questo si ricollega anche al discorso che facevo prima del mercato del lavoro che noi stiamo insistendo anche con la regione Puglia per poter permettere di avviare anche percorsi formativi per nuovi OS in quanto la logica deve essere quella nell'intervento diciamo classico di assistente domiciliare laddove è presente un familiare di inviare un operatore OS ma nell'ottica di essere docente a favore del il caregiver cioè il familiare che possa poi prendere atto conoscere queste pratiche queste dinamiche e poter assistere il parente per poi investire quella stessa risorsa umana anche in termini economici in un altro contesto quindi questo secondo me sarà veramente una sfida per la regione che ha la competenza per le politiche del lavoro e noi da parte nostra cercheremo di far conoscere anche degli interventi corollari sempre sull'assistenza domiciliare pensiamo alla misura care premium che è una misura gemella erogata dall'Inps che è ancora poco conosciuta o ancora per l'appunto ai buoni di conciliazione per specifici per l'assistenza domiciliare quindi c'è la possibilità c'è la possibilità sì vogliamo diciamo cercheremo di aprire sul territorio anche uno sportello informativo anche in maniera occasionale non strutturata per informare i cittadini tutte quelle che sono le loro opportunità grazie grazie di tutto e buon lavoro grazie grazie anche a voi buona giornata grazie a tutti 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 grazie a tutti